Amici Booklovers, come promesso vi, eccomi qui a darvi il primo indizio per questa grande caccia al tesoro firmata Susie Moore e il nuovo viaggio al centro della terra, titolo del mio romanzo in uscita per Dune Witch Edizioni, che colgo l'occasione di ringraziare ieri non l'ho fatto. Oggi vi mostrerò due oggetti che sono legati in qualche modo ai miei personaggi, ai personaggi del libro, ma che sarete voi a indovinare? Il primo, un microfono, un microfono che quindi è associato al tema, al concetto di musica, al concetto di canto. E il secondo oggetto invece, un paio di guanti, non guanti qualunque però, sono guanti moderni, di quelli un po' alternativi, con le falangi assenti, tagliate, che appartengono a quello stile un po' punk, gothic o rock. Di conseguenza, a chi mai potranno appartenere questi due oggetti? E che cosa vorranno significare? Lasciate commenti e considerazioni varie. Io vi do appuntamento al prossimo video, quindi al prossimo indizio e aspetto di sentirvi, di leggervi numerosi. Ciao amici Booklovers, stay in blue!